Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Linea Diretta. Oggi, come vedete dal titolo della nostra trasmissione, parliamo di menopausa. Lo facciamo con la dottoressa Marina Oselladore, che è nostra ospite, è una ginecologa dell'Ulse 16. Parliamo appunto di menopausa, abbiamo dato il titolo tra scienza e tabù, perché di menopausa è sempre più difficile parlare. Chiariamo che cos'è la menopausa. La menopausa è un momento particolare della vita di una donna, di solito arriva verso i 50-52 anni, in cui le ovaie decidono di non funzionare più, nel senso che si esaurisce la funzionalità ovarica e quindi la produzione ormonale, e cominciano una serie di sintomi che la donna avverte più o meno in modo importante. Allora, il classico sintomo che viene sempre descritto sono le vampate, cioè questo cambiamento della sudorazione, quindi il centro termoregolatore a livello encefalico che viene stimolato dagli estrogeni, manca questo stimolo e quindi c'è tutto uno squilibrio. Si ha anche insonnia, tachicardia e oltretutto questo momento particolare, effettivamente un cambiamento, avviene anche nel momento della vita della donna, in cui comincia a fare i conti con i suoi anni precedenti, cioè quello che ha fatto, quello che non ha fatto, se è contenta della propria vita, e magari presa anche in un momento di sconforto, perché comunque vorrebbe aver fatto di più, magari i figli hanno lasciato a casa perché comunque adesso si ritrova da sola a dover guardare la sua vita e ricominciare con il marito, si vede anche invecchiare, vede che comunque ci sono cambiamenti a livello della pelle, a livello del peso, e quindi corre, si spera, dal medico, dal ginecologo, a trovare delle soluzioni. Ecco, quindi la menopausa è un cambiamento, che arriva per tutte, chi prima, chi dopo. Ci sono dei sintomi che si possono interpretare, che però giustamente bisogna andare dal ginecologo per aiutare, magari anche con delle analisi del sangue, per capire che cosa sta avvenendo. Certo. Ma le donne padovane, per esempio, com'è l'approccio a questo sistema? Allora, l'approccio... Dove possono venire? Perché chiaramente siamo a Padova adesso. Esatto. Allora, noi fortunatamente a Padova abbiamo un sacco di servizi, nel senso che da noi funzionano benissimo i consultori familiari, che in realtà molte pensano che il consultorio familiare serva solo, non so, all'adolescente, alla gravida, quindi sì, sicuramente, però è un servizio sociosanitario che comunque guarda al sociale, alla famiglia, e nella famiglia ovviamente segue il percorso della donna dall'inizio alla fine, quindi anche per quanto riguarda la menopausa. ed è bello anche questa cosa perché comunque è una donna che viene seguita dall'inizio alla fine ed ha un rapporto con il proprio ginecologo e quindi è un percorso e può essere aiutata anche ad arrivare alla menopausa non proprio così, senza sapere che cosa le capiterà, perché magari ne parla già prima con il proprio medico, con il proprio ginecologo, sperando di essere seguita meglio poi in base alla sintomatologia che avrà. C'è chiaramente un aspetto di umore legato alla menopausa, insomma, che cosa si dice di solito a una donna che si presenta con il timore che per lei cambi tutto, che abbia l'aspetto fisico, c'è appunto questo problema di peso che lei accennava. Le cose fondamentali che purtroppo sono sempre difficili da fare sono volersi bene, nel senso che spesso corriamo tanto per gli altri, per i figli, per il marito, per la casa, per il lavoro, ma non abbiamo mai un momento in cui diciamo ok, mi fermo, vado in palestra, vado a farmi la passeggiata con l'amica al Bassanello, cioè non abbiamo mai un po' di tempo per noi e questo purtroppo crea comunque stress, se noi invece cominciamo a dedicare del tempo e soprattutto l'attività fisica è fondamentale e c'è un po' per pigrizia, un po' per abitudine, la gente si muove poco, curare l'alimentazione, in primis anche quella è una cosa importante e anche lì non siamo abituati perché mentalmente noi pensiamo sempre a quello che devono mangiare gli altri e noi mangiamo poi di conseguenza e non stiamo attenti alle cose ovviamente caloriche perché poi con l'età già in generale comunque con il passare degli anni il metabolismo rallenta, con la menopausa rallenta ancora di più quindi a parità di cibo che noi siamo abituati a mangiare ovviamente assimiliamo di più. Questo è difficile capirlo perché uno dice se io sono sempre uguale. Abbiamo una telefonata. Bene. Chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Ci sentite? Pronto? Abbiamo qualche difficoltà con la linea. Magari... Sì, pronto. Buongiorno signora. Buongiorno signora. Buongiorno signora Padova. Buongiorno signora. Buongiorno signora tutto. Voglio dire una cosa. Io dopo un anno che sono stata cioè sono anche meopausa ho subito un isterectomia. e un giorno a poi cosa che mi è successo dopo io ho avuto un forte blocco un blocco sessuale certo e sono passati 4 anni praticamente cosa devo fare in parte io ho ringraziato di io le stagioni ma perché mi ha un po' distrubato il sonno perché la notte vanno a molte le cose faccio un milione di ore comunque non è un problema però la cosa è che mi è stato bloccata essenzialmente certo e forse c'è la menopausa o l'operazione che ho subito comunque io mi ritrovo dopo 4 anni 5 anni insomma che sono bloccata posso chiederle se oltre all'utero ha tolto anche le ovaie? si può cioè c'è qualche maniera che non è tolto signora mi perdoni la chiediamo le chiediamo se oltre all'utero ha tolto anche le ovaie ha fatto solo un intervento per l'utero oppure ha tolto anche le ovaie? perché sarebbe un peggioramento ancora più della sintomatica tutto tutto ecco allora ha tolto tutto ok e lei certo e lei quella volta non è stata consigliata a iniziare una terapia ormonale oppure lei pensando che non aveva grossi sintomi non ci ha pensato non ha detto perché l'ideale ovviamente lei sarebbe proprio la paziente ideale poi dipende perché ha tolto l'utero e le ovaie c'era un motivo particolare perché come mai dopo un anno dalla menopausa ho dovuto toglierlo cioè non deve essere più in linea la signora la signora ha trovato il piccolo per l'utero che si che soggiorno di un mese e c'è veramente che è lasciato da vita insomma ok allora se era un problema dell'endometrio quindi un tumore all'endometrio per cui hanno dovuto fare la terapia ormonale c'era un problema che sono in linea di un minopausa certo certo allora se è un problema diciamo che purtroppo ci sono delle controindicazioni alla terapia ormonale soprattutto se una persona ha subito degli interventi o comunque ha avuto un tumore endometriale o un tumore alla mammella in questo caso qua probabilmente se c'era un problema all'endometrio le hanno sconsigliato di fare o comunque non le hanno consigliato la terapia ormonale perché non è indicata però potrebbe trovare delle alternative nel senso che poi credo credo che lei abbia anche una scarsa lubrificazione vaginale e comunque per quello si può trovare una terapia sì penso che il problema della signora sia proprio è il problema di molte donne che ha questo blocco sessuale e la sessualità è un elemento legato ovviamente alla testa insomma l'autopercepirsi belle, affascinanti e non vecchie e a volte anche si ha paura di parlare cioè nel senso che lei quando ha cominciato a sentire questo disagio avrebbe dovuto parlare col ginecologo che in base alla sua sintomatologia anche se non era possibile fare una terapia più mirata più adeguata comunque le avrebbe consigliato anche un approccio psicologico che è importante perché doveva superare questo cambiamento perché poi c'è anche oltre che un cambiamento ormonale c'è anche proprio un cambiamento mentale perché di fatto molte donne a cui viene fatto un intervento chirurgico viene tolto l'utero e vengono tolte le ovaie lo vivono proprio come trauma perché è come se venisse tolta una parte del proprio corpo una parte di sé importante che ha a che fare con la sfera anche dell'affettività e gli uomini e gli uomini come sono dottoressa rispetto a questo passaggio delle donne l'uomini secondo me allora già la donna non è preparata ovviamente l'uomo ancora meno perché l'uomo in realtà non vivendo questo cambiamento ormonale si ritrova una donna completamente diversa a volte non è detto però a volte effettivamente sia per quanto riguarda l'umore sia per quanto riguarda proprio la sessualità anche perché la carenza ormonale porta ad un calo del desiderio sessuale e magari il marito non capisce perché non ci sia più questo desiderio della moglie verso di lui e quindi lo prende come una cosa una mancanza di affetto quindi si scatenano anche una serie di problemi tra la coppia e la donna anziché trovare un aiuto nel compagno magari trova comunque un ostacolo e quindi oltre a dover pensare a se stessa deve pensare anche come gestire il partner e anche lì è difficile perché il partner dal ginecologo non ci va non ha un grosso primariamente anche le donne facciamo fatica magari ad affrontare questo problema magari di certi temi siamo abituati a non condividerli con il compagno insomma mentre la gravidanza è un momento di estrema gioia perché nonostante porti di grandi cambiamenti ormonali porta una estrema gioia perché porta una nuova vita la menopausa si tiene nascosta come una cosa che riguarda semplicemente la vita delle donne cosa che magari con un partner si può condividere però io vorrei anche se le signore mi sentono a casa convincere e cercare di stimolare le signore le pazienti ad andare dal ginecologo nel senso che spesso si tende a vedere il ginecologo magari all'inizio alla pubertà quando ci sono delle regolità mestruali che si vuole capire perché le mestruazioni non vengono regolari e cosa sta succedendo con la gravidanza perché ovviamente il fatto della gravidanza porta necessariamente ad andare al ginecologo poi stop tante persone fanno un controllo anche a 10 anni dal parto e che quindi arrivano è troppo perché comunque non crea un rapporto con il medico e anche rimani fuori da certe problematiche che invece in alcuni casi puoi anche arrivarci un pochino alla volta e tante donne secondo me hanno veramente bisogno di parlare perché la menopausa è un punto di arrivo o di partenza ma ci sono tante sfaccettature nella vita di una donna che comunque a qualcuno le deve dire e poi l'amica vabbè ma l'amica ti risponde comunque come ti può rispondere un'amica che ha più o meno la tua stessa sintomatologia età esperienza esatto e invece se nei consultori o nei poliambulatori tu hai la possibilità di parlare comunque con delle persone che ti danno anche un aiuto che credo che sia più che medico soprattutto psicologico perché alla fine anche noi che siamo ginecologi che teoricamente di psicologia non è che non è il nostro campo però tante volte chiedere una persona che entra nell'ambulatorio e chiedere come va come ti senti ti guardano come dire oddio perché mi ha chiesto questa cosa però apri una porta e loro ti dicono tutte quelle cose che magari non avrebbero detto 5 minuti prima perché non pensavano che qualcuno interessasse che qualcuno interessasse esatto ed è molto bella questa cosa però le persone si devono fidare cioè devono accedere a questi servizi che ci sono fortunatamente a Padova abbiamo la possibilità di avere tanti perché in tutto il territorio c'è una distribuzione capillare sicuramente dei consultori dei poliambulatori certo tanta gente va perché Padova è sempre stata molto sensibile a questa cosa perché dall'origine dei consultori negli anni 70 insomma c'è sempre stato un buon approccio con la struttura però spesso secondo me la gente diffida un po' del pubblico perché pensa di essere trattata male pensa che non ci siano comunque persone disponibili invece non è vero quindi vorrei dare anche questo messaggio sicuramente il messaggio della sanità pubblica veneta che è sempre stata all'avanguardia sempre sarà soprattutto su questi temi va dato perché il medico è una figura molto importante ma il medico non è semplicemente quello che cura l'influenza al raffreddore soprattutto il ginecologo può essere anche un po' psicologo da questo punto di vista e poi non è detto non è escluso che si possa accedere appunto anche alla figura dello psicologo all'interno dell'Ulsa all'interno del consultore è prevista proprio la figura dello psicologo per riuscire a risolvere delle varie problematiche che possono esserci appunto nell'ambito quali sono dottoressa i cambiamenti che spaventano una donna con la menopausa parlavamo prima del peso ci sono altre cose ah no i cambiamenti sono soprattutto questi quelli di cambiamenti di umore perché le vampate poi bene o male sia a parte l'inizio che una può cominciare ad avvertirle però sono una cosa abbastanza che passa in secondo piano i dolori articolari che non sono mai considerati una tanto male cioè alle articolazioni ma non pensa che sia un problema legato alla menopausa poi lo scopre quando casualmente te lo dice e dice no guarda che anche questo fa parte del problema e soprattutto secondo me la parte la parte sessuale tra le cose proprio del iniziali poi tutto quello che è problema cardiovascolare che ovviamente si manifesta un po' di anni dopo l'inizio della menopausa e il problema osteoporosi che non è una cosa da poco tante persone hanno soffrono di osteoporosi anche lì siccome è una patologia che uno colloca in un'età più avanti tipo i 70 anni 70 anni 80 anni a 50 anni non ci pensa però queste donne possono avere la mamma la zia qualcuno in famiglia che ha avuto problemi osteoporosi e non pensano a dirlo allora a questo punto è il medico che deve indagare e cercare di farsi dire che cosa un po' la storia che ci può essere nella famiglia per capire poi come intervenire perché a volte magari una donna che non ha sintomi non chiede la terapia sostitutiva ma magari è opportuno dargliela proprio per prevenire certe patologie che si manifesteranno magari dopo 20 anni ma dopo 20 anni non si può fare niente qual è il range d'età della premenopausa e della manopausa e cosa vuol dire essere menopausa cioè quando è che si è menopausa quando la mestruzione bene o male non arriva più da un anno però il periodo che è il climaterio inizia più o meno 4-5 anni prima e i segnali sono l'irregolarità mestruale quindi la mestruazione che può essere una mestruazione che arriva ogni due mesi oppure una mestruazione che dura un mese o una mestruazione che magari arriva dopo 15 giorni quindi comunque un'irregolarità e anche cambiamenti proprio comincia ad avere sì un cambiamento anche della termoregolazione questo può essere anche una cosa positiva nel senso che persone che soffrivano tantissimo il freddo cominciano a star bene anche lo stesso a temperature più fredde ma vestite in modo normale quindi capisce che c'è qualcosa che sta cambiando e forse sì sicuramente l'umore perché di fatto a livello cerebrale c'è un effetto anche a questo la cura ormonale lei diceva prima le pazienti che hanno avuto problemi all'apparato riproduttivo insomma è più difficile pensare ad un approccio di tipo ormonale altre pazienti che possono avere avuto altre malattie importanti che si sono state sottoposte alla chemioterapia allora a parte queste patologie appunto che abbiamo detto tipo tumore all'ammella tumore all'endometrio per esempio facciamo l'esempio di una ragazza giovanissima che per una leucemia è stata sottoposta a chemioterapia e quindi purtroppo l'ovaio ha avuto dei problemi quindi non funziona più è come se fosse stata creata una menopausa precoce ovviamente assolutamente è importante dare una terapia ormonale a questa ragazza perché se no a parte che comunque i cambiamenti ovviamente anticipa la menopausa a 20 anni che non è proprio il caso ma anche poi tutte le conseguenze di una menopausa precoce li ritroverà a 40 anni e quindi ovviamente non puoi permettere a una persona di avere di avere di vivere insomma di crearle un disagio fisico tale da insomma ritrovarsi vecchie a 40 anni e quali sono le cure ormonali cioè proprio fisicamente praticamente come si tratta la cure ormonale la cure ormonale ovviamente bisogna trovare la paziente ideale perché spesso arrivano persone che pretendono fra virgolette la terapia in realtà la terapia deve essere un po' mirata alla paziente cioè è ovvio che una paziente che per 30 anni fuma 20 sigarette al giorno ha fumato e sta fumando 20 sigarette al giorno la paziente obesa la paziente diabetica o la paziente ipertesa purtroppo non è una candidata ideale per la terapia ormonale quindi anche lì bisogna avere approcci diciamo locali settoriali nel senso che va benissimo il discorso della secchezza vaginale quindi intervenire con creme a livello vaginale però purtroppo la terapia sistemica in una persona già sovrappeso prima bisogna pensare a farla dimagrire quindi a creare un equilibrio a livello fisico e poi eventualmente si interviene con la terapia a maggior ragione con la forte fumatrice bisogna appunto ecco perché è importante che le persone vadano dal medico ma anche il medico di medicina generale perché comunque un'educazione alla salute viene data anche dal medico di medicina generale certo arrivare alla menopausa con un enorme peso con una buona abitudine di stili di vita ordinati insomma una buona alimentazione l'alimentazione che appunto deve essere un'alimentazione particolare sono cose che sappiamo tutti frutta verdure cereali legumi però poi alla fine nessuno serve esatto però quando tu ti ritrovi a 50 anni con una serie di sintomi vuoi che ti risolvano il problema però il problema avresti dovuto già risolvere un pochino tu prima non può arrivare sì c'è l'abitudine della prevenzione del pensare prima che ci si sta lentamente avvicinando verso un momento difficile adesso è un po' anche quello che si vuole creare proprio nei nostri ambulatori adesso c'è anche un progetto che si chiama progetto Onda che stanno portando avanti sia l'ospedale Sant'Antonio a Padova che anche l'ospedale di Piove di Sacco dove l'ospedale che da tutti i punti di vista quindi non solo ginecologico ma proprio dal punto di vista del benessere della donna che può essere psichico dal punto di vista fisico c'è l'ortopedico c'è il romatologo cioè ci sono varie discipline quindi un approccio multidisciplinare proprio costruito per la donna quindi la donna può afferire a questi ospedali questi ospedali hanno ricevuto il bollino rosa dal Ministero della Sanità che quindi è un'attenzione in più che viene rivolta alla donna non soltanto per quanto riguarda la sfera menopausa quindi la sfera ginecologica ma un po' a tutto tondo cosa che dovrebbe essere il principio per cui il medico ti dovrebbe educare a seguire un determinato modo di vivere che purtroppo è difficile gestire è difficile avere perché nella famiglia standard proprio perché corriamo non riusciamo a fermarci un attimo a pensare è meglio che sto attento un po' all'alimentazione insomma al mio modo di vivere quindi insomma la menopausa può diventare anche in realtà il momento in cui si pensa finalmente a noi stesse cioè dovrebbe purtroppo bisogna pensarci prima esatto si vorrebbe avere il tempo la possibilità di pensarci prima però questo ci dà a tutte l'occasione di dire ok adesso ci fermiamo un attimo ci dedichiamo del tempo delle passeggiate un caffè un'uscita con le amiche che aumenta lo stato dell'umore che fa sicuramente bene anche iscriversi per esempio perché tutte ormai viviamo con lo stress quindi iscriversi in una palestra ma non tanto per la palestra in sé ma perché socializzi trovi altre persone fai corsi di yoga fai corsi di pilates cioè fai qualcosa ti dedichi un'ora perché alla fine un'ora non credo che nel bilancio della giornata sia un grosso problema però non lo facciamo non lo facciamo perché magari quell'ora la dedichi non so a fare la spesa fare la spesa oppure a andare a prendere non so nipotino se hai già nipotino perché devi fare quello senta dottoressa si parlava un poco fa prima di arrivare in onda che la terapia ormonale fino a qualche tempo fa era stata un po' demonizzata cioè c'era chi la sconsigliava per quale motivo? allora c'era stato un periodo bellissimo secondo me nel senso che negli anni 90 c'era proprio fine anni 80 e tutti gli anni 90 c'era stato proprio un uso a tappeto della terapia ormonale tante persone usavano la terapia ormonale per 10 anni e effettivamente rivedere queste persone adesso sono tutte persone di 70 anni di 75 anni che stanno bene nella storia purtroppo delle donne ma donne che hanno fatto la terapia ormonale e donne che non l'hanno fatta purtroppo esiste il cancro alla mammella perché una donna su 10 ormai presenta il cancro alla mammella terapia ormonale o non ma questo lavoro dal 2002 un lavoro americano aveva sottolineato il fatto che c'era stata un'incidenza elevata di carcinoma alla mammella e quindi ad un certo punto ci si è fermati anche per un motivo medico legale nessuno dava più la terapia ormonale sostitutiva e quindi ci si è ragionati poi quest'anno invece o l'anno scorso è uscito un nuovo lavoro fatto in Europa che c'è sul British Medical Journal dove è stato un po' riveduta tutto quel tipo di lavoro che era stato fatto dagli americani perché l'età media di queste donne che erano state controllate era un'età che era sui 63 anni cioè una donna di 63 anni a cui viene data la terapia ormonale sostitutiva è già una donna a rischio ma è a rischio perché magari ha già il diabete perché sono 15 anni 13 anni che è andato in menopausa quindi ha già comunque iniziato i sintomi di una menopausa che sono l'ipertensione che sono il diabete che sono problemi cardiocircolatori anche potenzialmente è più a rischio di tumore alla mammella perché comunque aumenta con l'età e quindi dare la terapia ormonale a questo tipo di persona ovviamente fa sì che magari mi compare un tumore al seno in una donna che magari ce l'aveva già quindi non è la terapia ormonale la causa ma è la terapia ormonale data alla persona sbagliata e soprattutto l'età fa la differenza adesso questo lavoro ha visto che dare la terapia ormonale alla 50enne 52enne insomma più o meno dopo poco l'arrivo della menopausa e in basse dosi si è visto che a 5 anni non c'è nessuna differenza statistica tra chi fa la terapia ormonale sostitutiva e chi non la fa per quanto riguarda l'aumento di incidenza del tumore al seno dopo i 5 anni c'è un minimo rischio ma anche lì fa sempre parte purtroppo della vita della donna il problema del carcinoma alla mammella diciamo che quello è il limite che ha un po' fermato questo dare la terapia indipendentemente da la terapia ormonale di fatto che cosa fa? perché si parla di sono ormoni che sostituiscono allora anche questa è una cosa strana nel senso che per esempio tante persone anche giovani hanno problemi alla tiroide per esempio ok la tiroide non funziona più mi manca l'ormone della tiroide io tranquillamente mi prendo l'Euterox comunque mi prendo la mia pastiglietta per sistemare la tiroide è una ghiandola anche la tiroide come poi è una ghiandola l'ovaio ma lì giustifico perché dico ok la tiroide non funziona mi prendo la pastiglietta se l'ovaio non funziona non si sa perché va bene così e quindi nessuno vuol prendere niente invece in realtà non è altro che sostituire a quest'organo che non funziona più gli ormoni cioè la funzionalità quindi io prendo degli estrogeni appunto come dicevo prima quello che è fondamentale sono gli estrogeni perché il progesterone viene dato solo perché se la donna ha l'utero l'estrogeno rischierebbe di creare un'iperplasia a livello endometriale l'endometrio è la parte interna dell'utero quella che dava le menstruazioni e quindi la stimolazione eccessiva dell'endometrio può portare anche al carcinoma dell'endometrio quindi in tutte le donne che hanno l'utero viene data una terapia ormonale che comprenda estrogeni e progesterone in una donna invece che ha fatto l'isterectomia per cause non ginecologiche non so perché magari aveva delle meulagie perché aveva dei fibromi insomma ha comunque tratto l'utero per cose non tumorali si può dare soltanto l'estrogeno allora diciamo che l'estrogeno può essere dato in forma di compressa l'estrogeno è progesterone ma comunque le varie somministrazioni possono essere sotto forma di compressa sotto forma trasvernica quindi il cerottino e queste sono le terapie più diciamo più utilizzate l'estrogeno che cosa fa di fatto? è un ormone che ci rende anche un po' più serene più tranquille l'estrogeno va a ripristinare tutto quello che si era sregolato perché se noi pensiamo che a livello encefalico appunto tutti i centri dell'ipertensione quindi la parte neurovegetativa è diciamo stimolata dagli estrogeni una volta che io gli tolgo l'estrogeno tutto va si squilibria e quindi io devo integrare questo ormone che non ho più ecco perché la maggior parte delle donne che fanno la terapia ormonale istitutiva quasi da subito stanno bene ah cioè quindi quasi da subito per quanto tempo allora se diciamo se una non si porta una sintomatologia da anni che di solito comunque non si comincia mai dopo 4-5 anni l'ideale è cominciare più o meno subito più o meno nell'anno massimo due anni da quando una persona è andata in menopausa perché se no i vantaggi in meno pausa no in meno pausa in meno pausa si può cominciare ovviamente se le mestrazioni effettivamente sono molti regolari per cui ti creano anche disagio perché se una remestruzione ogni 15 giorni magari approfitti utilizzi una terapia ormonale che regolarizza le mestruazioni ma allo stesso tempo le aiuti ad andare in menopausa in modo ma mirato e anche ritagliato in base alla sintomatologia comunque bisogna fare gli esami del sangue poi ci sono degli esami del sangue degli esami ormonali ovviamente una mammografia adesso anche qua in tutta Italia e anche nel Veneto c'è questa la disponibilità dopo i 50 anni alla mammografia gratuita ogni due anni e quindi anche questa è una bella cosa perché molte persone che non andrebbero comunque a farsi la mammografia vengono chiamate dall'ospedale dal poliambulatorio e vanno a farsi la mammografia quindi questo è un controllo in più che è utile e che è importante andare poi abbiamo anche come prevenzione il sanguoculto nelle feci che anche questo non è una patologia strettamente legata al problema al colon alla menopausa ma comunque fa parte dell'età e quindi sono dei controlli che la donna dopo i 50 anni donna e uomo anche devono fare e basta fondamentalmente credo che la cosa più importante sia proprio la mammella perché attualmente è il tumore femminile più frequente ecco esurando dal tema della menopausa l'ecografia o la mammografia ogni quanto va fatta perché qua ci sono opinioni di storia allora qua ci sono opinioni diverse nel senso che tutti insomma allora è vero che dal punto di vista dello screening la mammografia viene fatta ogni due anni però in realtà questo è stato fatto perché si è visto che comunque si riesce in due anni a cogliere dei cambiamenti a livello della mammella che comunque riducono molto la possibilità che di trovare un carcinoma della mammella in stadio avanzato se però uno può io di solito consiglio nell'anno in cui non viene fatta la mammografia quindi continuare a fare lo screening e nell'anno in cui non si fa lo screening fare la propria mammografia con l'ecografia mammaria perché anche lì l'ecografia diciamo che è un esame complementare alla mammografia la mammografia sono dei raggi delle lastre classica e invece l'ecografia valuta altri aspetti della mammella che a volte con la mammografia non si vedono insomma la parola d'ordine qui è curarsi prendersi cura di sé prevenzione trovare il tempo per andare dal medico trovare il tempo per prenotare gli esami trovare il tempo per ascoltarsi per ascoltarsi ecco anche questo per ascoltarsi e a volte trovare anche il tempo per farsi ascoltare cioè imparare anche a parlare un po' di più a chiedere e a dire a chiedere e a parlare e a dire anche quelle cose che magari normalmente non si dicono noi ricordiamo che all'Ulss ci sono dei ginecologi molto bravi come lei come le sue colleghe e poi c'è un buon rapporto tra tutti noi quindi comunque c'è uno scambio anche di pareri di idee tra l'ecografista perché anche bisogna ricordare che esiste anche l'ecografia transvaginale che viene fatta periodicamente nelle donne ovviamente questo deve essere un esame indicato dal ginecologo si vede che è il momento in cui uno deve farlo però c'è uno scambio di idee fra i vari medici quindi la donna veramente è coccolata quindi la parola d'ordine è coccolarsi e farsi coccolare anche dal ginecologo perché no certo dottoressa siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di linea diretta io la ringrazio ci rivedremo sicuramente se non parleremo ancora di questi temi che sono molto importanti per noi per le nostre ascoltatrici e ringrazio tutti per averci seguito ci vediamo alla prossima puntata grazie grazie a tutti grazie a tutti